segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e siccome prima il dottor benabè diceva che diciamo questo dibattito sulle presunte infiltrazioni russe nell'informazione italiana in questo momento di grande approfondimento giornalistico è abbastanza ridicola sei d'accordo ma persino peggio che ridicola quando io sento di fronte a quello che sta succedendo che il copasir interviene o viene richiesto di intervenire per accertare se ospiti giornalisti russi nelle trasmissioni televisive italiane sono agenti segreti oppure viene richiesto l'intervento o la stessa commissione di vigilanza rai vuole intervenire sui programmi per impedire che venga invitato questo o quell'altro ospite perché lo si ritiene una quinta colonna della russia in guerra io inorridisco perché la politica non deve mettere becco su quello che riguarda la televisione perché la politica nella migliore delle ipotesi non sa niente di televisione nella peggiore delle ipotesi è la stessa politica che nei confronti di quei talk show quando deve mandare i suoi esponenti come ospiti vuole sapere chi l'intervista chiede chi l'intervista perché se c'è il russo reclamano il contraddittorio quando vanno gli ospiti loro vogliono decidere il livello del contraddittorio il contraddittorio non è più importante la politica da questo punto di vista sta dando una prova pessima ed è ridicolo anche solo evocare il copa per stabilire se un giornalista è un agente segreto ma ma siamo seri per favore c'è una guerra in corso ha ragione bernabè a dire che semmai i russi hanno agito in altro modo nel corso di questi ultimi anni con gli hackeraggi con la guerra ibrida e anche con quelle infiltrazioni di tipo finanziario barra politico nei confronti di di partiti non voglio dire italiani anche se ho dei sospetti ma anche non italiani europei lo sappiamo benissimo l'internazionale sovranista nel 2016 l'internazionale sovranista serviva questo poi fondamentalmente a destrutturare dall'interno le democrazie europee no lì sì allora sì parliamo di questo lasciamo stare le televisioni pensavano di aver fatto un buon lavoro e quindi pensavano di aver messo in difficoltà l'occidente ed è per questo che hanno usato un atteggiamento così aggressivo nei confronti dell'ucraina dopo che l'occidente gli aveva fatto passare la 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 siria gli aveva fatto passare la crimea gli aveva fatto passare tutta un'altra serie di operazioni e dopo di che dopo di che dottor bernabè anche l'occidente qualche domanda se la deve fare se è vero come è vero che alle ultime elezioni americane i repubblicani di trump istigati da trump hanno occupato capitol hill e c'è anche le democrazie occidentali dovrebbero volersi molto più bene da sole non hanno bisogno che ci siano infiltrazione russa per destrutturarsi a volte grazie grazie